tino forse hanno ragione i nostri haters secondo me c'è qualcosa che non va in che senso hai ragione questo è quel dell'italia campioni d'europa ormai lo sanno tutti aspetta non te ne andai stai la fermo che dici ma va bene a se avevo dimenticato per un attimo fatto confusione ci hanno detto il panettone da solo non basta e allora si che abbiamo fatto non ho la più pallida idea lo so se non ci penso io voglio noi qua a destagionalizzare ho chiamato sabino 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 chi non quel sabino un altro sabino a villanova che sai dove è villanova ostuni la città bianca siamo venuti là sabì preparami qualche dolcetto di natale perché lo rinforziamo rinforziamo con questa destagionalizzazione non dando solo il panettone ma alcune altre specialità che dice funziona secondo me si mo hai proprio preso due una fava che cosa ho preso con una fava scusami sembrava brutto dire piccione no piccione sì c'è un modo di dirlo non è che è vero natale di nome e di fatto anche di fatto voglio capire come si fa a vivere con un nome così importante per il resto dell'anno il 13 luglio come si fa a essere natale i miei bambini hanno natale babbo natale 365 giorni l'anno vuoi chiudere la bocca no lo so che ti sta venendo la cuore questa è tutta roba di pasta di mandorle ma non quelle che mettono la farina allungata no questa è pasta di mandorle vera vedi le mandorle pure intere quel di toritto sono qua facciamo tipo matrix devo andare in apnea non mi non si danno facile aspetta in apnea ok vabbè tu sei magro ce la fai e sabino sabina bari e il papa a roma e natale a vilanova e scusami non ho capito abbiamo fatto il corner di natale sì non ecco tino questa cosa bisogna farla digerire bisogna farla digerire perché uno non è convinto signora lei comprerebbe il panettone ad estate no signora proprio l'unica che in questo momento ci ha devastato ci ha devastato la vita ci ha detto che ma noi faremo cambiare idea al mondo intero ok chi è sabino no nata pasqua no tino da villanova a torre canne il passo è brevissimo e facciamo una sorpresa questa signora ho 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 signora lei crede ancora babbo natale come no quindi non crede che io sia babbo natale per questo noi le facciamo un dono un panettone artigianale senza coloranti senza conservanti con solo la materia prima locale fatto dai panettieri di bari grazie contenta col caffè il classico caffè panettone di natale facciamo una domanda quanti giorni mancano natale oggi col bene che col bene che col bene che ti voglio ti voglio ti voglio luglio col bene che ti voglio bravissima bra buon natale a tutti luglio col bene che ti voglio incursione sulla spiaggia di torre canne guardatino come ti stanno guardando a te ovviamente mica me a te guarda come ti stanno guardando io farei un'incursione sotto quell'ombrelonazzo che c'è la quella che cosa è una tribù volevamo omaggiarla con il classico dolce estivo per tutta la famiglia un buonissimo panettone artigianale tutto per voi così la merenda la fate con il ricordo del vostro babbo natale guarda come ride la signora ha detto ma questo da dove è calato oggi è vero signora è vero me lo faccio me lo faccio uno me lo offrono con grande piacere amore amore non esageriamo amore è una parola grossa no vabbè in ogni caso ce lo rifaccia dobbiamo perfezionare benissimo benissimo non cammino sulle acque tino perché non ce la faccio eh ormai mi sono bagnato tino e mi hanno pure rifiutato il panettone non è educazione questa tino taglie loredana via a mangiare il panettone niente vabbè glielo lascio e quando viene loredana glielo fa mangiare il panettone vabbè noi vogliamo destagionalizzare da roma verrebbe a gennaio qui per esempio se ci fosse qualcosa verrebbe hai capito tino quindi questa idea di destagionalizzare non è male magari no col panettone però sai che io vivo in perù il panettone si mangia tutto l'anno vivi in perù esatto tino e non che non ti puoi avvicinare dove vivi in perù a lima a lima e mangi il panettone tutto l'anno no io non lo mangio ma loro lo mangio tutto l'anno tino è vero è vero tino già tagliate le gambe cioè proprio ci ha distrutto ci ha voleva fare una cosa invece voleva fare una cosa strana o famo strano invece ho famo normale ho famo normale ti ho famo normale come ti chiami guido 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 ho famo normale ho famo normale sono stranieri ci proviamo no che vuoi provarci con le straniere fino a che non mi fraintendere buonasera da dove venite only english where are you from polacco polacco anche la polacca è buona tino anche la polacca però noi non abbiamo polacco my gift for you thank you very much panettone repeat panettone panettone un po meglio più secco panettone panettone eccolo tino number one my friend what's your name radek from poland radek number one panettone tino mi raccomando eat panettone now 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 it's good or not good okay test 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 perfect my friend not in test tino non il panettone in test il panettone newt newt si dice in polacco newt mangiare in polacco come si dice eat to eat in in poland mamma mia polacco samane eh very good very good and so another for you for your friend for my wife for your friend va bene i like i like uvetta eh kanarut radek my friend radek is kanarut come si dice newt kanarut in polacco newt kanarut bravo repeat newt kanarut newt kanarut perfetto alla grande alla grande noi per ora ma solo per ora non vi salutiamo perché abbiamo da distribuire altri na decili so tino manci frisci non finiscono mai mimina mimina si e qui mimina così mimina mimina facciamo una foto mimina aspetta che ce la facciamo bene fai di nuovo la foto a mimina a tutto sole antonio e mimina a tutto sole antonio e mimina mimino mangelo che devo sapere com'è dai buono sarà come buono sarà non è alla fiducia questo devo meritarmela io la buona mia vuoi un panettoncino eh lo mangi che lo mangi piccino com'è chi lo faccio solo per lei grazie per il lei perché io sono babona dici il pirla che si è vestito così buonissimo pensa non l'ha ancora messo in bocca ha detto buonissimo solo l'odore solo è vero è vero con la bussina un ottimo odore tutti ingredienti naturali nei conservanti nei coloranti ve lo dico così eh daniela è freddo freschissimo buonissimo il panettone lo abbiamo lo spumante lo spumantino ce lo abbiamo i bicchieri li abbiamo il calice vabbè quello è stivo il calice è stivo a chi brindiamo all'associazione tiche di martina franca per i suoi dieci anni associazione di ginnastica ritmica quindi questo è per voi stappa la figlia è campionessa italiana pure allora brindiamo ha vinto la coppa a rimini a giugno qui siamo nascosti tutti professionisti vai vai tino tu non bere se no le immagini vengono storte eh cincina tiche brindiamo a voi tino pur a te l'hanno dato tino l'ho preso l'ho preso vieni vieni metti di qua madame madame vieni con le immagini vieni con la mia vieni con la mia vieni con la mia